Ma quale 11 avrebbe messo in campo Roberto Mancini con la nazionale se avesse seguito il rendimento del Fanta Calcio? Andiamo a scoprirlo! Ed ecco quindi quale sarebbe stato l'11 che Mancini avrebbe schierato in nazionale se avesse seguito le Fanta Media del Fanta Calcio. Aiutiamoci quindi con la grafica quindi abbiamo seguito il 4-3 quindi con il sito modulo di Mancini. In Porta Silvestri Fatamai da 5-86, difesa Spinazzola 6-92, D'Ambrosio 8, Bonucci 6-42, Biraghi 7-14. Passiamo per il Cattrocampo con la locata di 7-21, Soriano 8-5, Castrovigli 8-08. Completiamo poi con il trinette d'attacco con Berardi 8-42, Caputo 9-58 e Insigne 7-88. Seguitici sui nostri social, sul nostro sito internet tuttofantacalcio.it